raga non so se viene perché le piccoline vedono la luce e si possono nervosire mi sono... ciao amore non avere paura faremo una cosa molto veloce io ho messo il mangiare qua con i frustel perché io praticamente sono seduta vicino a loro aspettando che smetta il cattivo tempo e nulla ciao amore però mi scorcia prenderle col fesce perché comunque anche insomma la pioggia le nervosisce un pochetto amore mio adesso spengo stiamo mangiando i piustel io mi sto fumando una sigaretta comunque stanno bene speriamo che veramente la settimana prossima anzi questa esca un po di sole perché così proprio non si possono sopportare ho lasciato distrattamente il video sul siriusel in realtà perché non voglio menti morirle amore mio vediamo se riesco a porti no ce la faccio proprio sì fortissimo hanno paura dai raga tremano dai che spengo che siamo più tranquilli ciao 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 ciao